Io come ditta non posso lavorare nel sisma perché mia mamma era mafiosa. Io da sei anni sono il RUP di Poggio Rusco, Villa Pomo, Maria Cavana, Sè... ...che sono, che realizza la pratica, che realizza le ditte e chi fa l'ordinanza dica ci sia. Te ne prendi 60-70 grazie a un mio giro. Sei contento no? L'operazione di oggi è stata condotta in diversi comuni della Lombardia, dell'Emilia-Romagna, del Veneto e della Calabria. La figura centrale dell'indagine di sisma è rappresentata dal nipote di un boss, un drangherista, che avrebbe messo in piedi un sistema corruttivo per facilitare la congestione di contributi pubblici destinati alla ricostruzione post-sisma del 2012.